Solitamente quando mi avvicino a giochi che non conosco, dentro di me c'è sempre il dubbio del sarà un bel gioco o sarà un tiettelo? Bene, ci sono volte in cui invece io sono certo che quello che ho per le mani sia un tiettelo e questo si chiama Handball Pelota Non so perché abbiano scelto di unire un termine inglese con un termine spagnolo ma questo già ci dice molto sulla profondità concettuale alla base di questo interessante progetto Dice che se fa è palla a mano, teoricamente Ma facciamo easy? Poi semmai saliamo? Ma poi perché c'è un layout da cellulare se sono su Switch? Vabbè, non importa perché io mi pongo delle domande a cui potrebbe essere pericoloso rispondere Poi è bello, che cosa cambia di preciso? Ah, le finestre? Oppure se è proprio una prigione vera? Vabbè, prigione vera Perché glielo sta... C'hanno questa movenza molto... molto particolare su cui... su cui non vorrei soffermarmi più di tanto Ah ma mi muo... Non capisco... Il bacino basculante Seguito poi da queste splendide animazioni molto... Vabbè, you engage Sound on Ma cosa devo fare? Ma cosa f... Ma poi perché sono sollevato... Niente, bascula Vabbè Io non ce la faccio Ok, tocca a lui Allora Io sto anche ridendo mistericamente perché C'è un dettaglio importante Io questo gioco l'ho pagato Ma non ricordo quanto Allora, adesso è chiaro che io non ricordo Che cosa ho fatto? You end the play Ma io non ho... Non ho... Ma che ho fatto? Mettiamo medium magari E mettiamogli le finestre Magari un po' di ossigeno in più Niente E gli piace Ma poi perché sono sollevati dal suolo? Vabbè Mi piace tantissimo il modo in cui camminano Ma se io esco non posso Ok Ma non ho ended play Oh santo Ce l'ho benedetto La ribasculiamo Todos basculamos No, tocca a lui Vabbè raga però Ma c'è nel senso Io capisco Ma qui è tutta una basculata E niente più Detesta Bellissimo Ti prego Ti prego Rispingi Oh perché Hai le mutande a pua? Lo scatto felino No vabbè Comunque dai Ma Io quello che sto capendo ultimamente È che Nintendo Non è che faccia grandissima selezione Dei titoli che propone sul suo shop Il che per certi versi Non è un male Perché Perle tipo questa Ce le perderemmo Altrimenti Però frate Un minimo di sfida Ma la devi pur garantire Se no io Cioè Gioco al muro Da solo Più una palla E mi diverto di più Io ripeto Era Era già chiaro Era già ampiamente chiaro Dal Dal nome Perché c'evo coraggio A chiamare il gioco Handball pelota Però Santo cielo Benedetto Questa Gliela Appizzata proprio Senza neanche colpire Io Io non ce la faccio Io vorrei Adesso che ho capito Ah Si è caricato Bascula più veloce Io adesso Cioè Io sono Sono un forte E Convinto Sostenitore Del mercato indie E lo sapete Usciamo da questo Ho capito come si esce adesso Usciamo Un fortissimo Sostenitore Del mercato indie E lo sapete Però 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 Cioè A patto che L'idea creativa Abbia Una Una sorta di Di Abbia un senso Ecco Abbia una sua dignità Artistica Questa 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 non è Non è Io spero Di averlo pagato Meno di un euro Perché non mi ricordo Credo Credo che fosse Tipo a 50 centesimi Un euro Perché L'avevo preso In un periodo Di saldi In cui Mi colpì molto Il nome Così caratteristico Ma io non capisco L'animazione Perché quando Se ne va Basta Perché Stai incastrato Non si muove più Aspettate Comunque Noto con piacere Noto con piacere Che non cambia niente Cioè Easy Medium E tough Determinano Semplicemente La quantità Cioè È È una difficoltà Insita nella resistenza Mentale che devi avere Per arrivare a 15 punti Perché Non cambia niente Nella capacità Del tuo avversario Qui siamo a teatro Ma poi questa Non è neanche Palla a mano Cioè Handball È palla a mano Ma questa Non è palla a mano Questa è Squash con le mani Cioè La palla a mano È un'altra cosa Ci sono Ci sono Beh Non Ma io perché Ma poi che cosa ho in testa La papalina Perché c'è il personaggio Con la papalina Che bascula Ma pure lui Ma è un casco Non si capisce Non si capisce Non si capisce La palla L'ha lanciata Non vi dico Da dove Ma potete intuirlo Oh L'avversario Finalmente Mi è in grado Di rispondere Io non lo so Forse Forse ho un'idea Della palla a mano Che è diversa Da quella reale Ma Mi ricordavo Ma la ricordavo Diversa Vabbè Io su questa Direi che abbiamo visto Abbastanza Capolavoro Capolavoro A suo modo Capolavoro Basculante E sulla basculata Del nostro alter ego Bellissimo Io direi Che ci possiamo salutare qua Io però Resto Resto Io voglio vedere Che succede Quando si vince Cioè La sequenza Di vittoria Vi taglio E vado a vincere Ok Il tocco di classe È che ci siano gli applaudi Senza la gente che applaude E anche constatare Che la fisica Di questo gioco È inferiore A quella che aveva Pong Sì Decisamente Sì Comunque Siamo Siamo arrivati Al punto finale Tant'è che la basculata È molto più decisa Questo potrebbe Sancire La nostra vittoria Di 5 a 0 You win You score 5 points Ma io Ma io ne ho fatti 7 In realtà Quindi anche Vabbè Dopo Dopo questa Direi che ci possiamo Dallare E vi do appuntamento Al prossimo Diettero Perché questo Questo credo Che sia oggettivamente Forse il peggiore Mai portato Penso Penso Di E vi do appuntamento Ciao a tutti 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 Ciao a tutti